Siamo una società di bagnoli di sopra, sotto Padova. Produciamo conduttori per la trasmissione dell'energia elettrica e per gli avvolgimenti delle macchine elettriche, trasformatori, generatori e motori. Cerchiamo di contribuire da alcuni anni alla transizione ecologica con tanti investimenti sia nella crescita della capacità produttiva sia nell'innovazione per l'ampliamento della gamma produttiva. Ci sono molti investimenti infrastrutturali che sono in corso attualmente e questo ci aiuta per poter crescere la dimensione della nostra azienda. Ho visto che nel 2019 eravamo circa 300, adesso siamo 450 e vogliamo diventare entro l'anno prossimo almeno 500. Il fatturato è passato da 150 milioni di euro a 270 e prevediamo l'anno prossimo di superare i 300 milioni. Diciamo che l'ambizione nostra è quella di essere il più avanzato dal punto di vista delle tecnologie produttore di questi conduttori nel mondo. Il passo ulteriore che intendiamo fare l'anno prossimo è quello di aprire una filiale negli Stati Uniti per replicare lo stesso modello che abbiamo in Europa anche negli Stati Uniti che sono caratterizzati dalle stesse dinamiche.